Il Movimento 5 Stelle ha ribadito il suo no a un governo Bersani. A questo punto ci aspettiamo che Bersani, come dice lui, si assuma le sue responsabilità, capisca finalmente dopo più di un mese che non ha vinto le elezioni ma le ha pareggiate, che si intesti uno sforzo di dialogo e di unità e inizia a occuparsi dei problemi del Paese e non delle beghe correntizie del suo partito. Grazie.